Ben ritrovati da Fabio Camillacci, secondo capitolo di Crimini e criminologia e torniamo ad approfondire una vicenda di cui abbiamo parlato già in altre trasmissioni di Cusano Italia TV e anche qui a Crimini e criminologia, ma in quella che era per così dire proprio la ricorrenza relativa all'11 settembre 2001. Vedete il titolo che abbiamo scelto per quest'altro blocco che vogliamo dedicare a quella immane tragedia, 20 anni dopo abbiamo aggiunto una lunga scia di sangue. Perché? Perché ora andiamo a presentare l'altro gradito ospite di oggi, lo ritroviamo, ne abbiamo parlato con lui, abbiamo trattato la vicenda relativa al caso Moro e infatti qui a Crimini e criminologia oggi il professor Pietro Ratto. Bentornato a Cusano Italia TV. Salve, buongiorno, grazie. Storico e filosofo, ma anche tanto altro, direi ovviamente scrittore, ecco perché torniamo a parlare dell'11 settembre perché proprio l'11 settembre scorso è uscito questo suo nuovo libro, la sua nuova opera di cui possiamo vedere, eccola qui, la copertina 11.9 da Berlino a Kabul, la lunga scia di sangue dell'11 settembre, ricordo Biblioteca Edizioni. Ecco, prima di andare al servizio della collega Aurora Vena che ricostruisce quella drammatica giornata dell'11 settembre con l'attacco alle torri gemelle, ma anche l'attacco al Pentagono e l'altro aereo che probabilmente avrebbe dovuto colpire il congresso, ecco, volevo dal professore una breve presentazione di questo libro di cui poi vedremo anche il book trailer, perché io ho trovato una sua frase significativa, quanto alle vicende messe in luce in questo lavoro, alle trame evidenziate, alle responsabilità denunciate, ancora una volta mi trovo a scoprire che si tratti di null'altro che dell'ennesima tessera di un gigantesco puzzle che ho iniziato a comporre ormai sette anni fa. Ecco, per riassumere questa frase che dice veramente tante cose che fanno riflettere, professore, per renderla ancora più semplice per i telespettatori, che potremmo dire? Beh, insomma, è una constatazione che parte appunto da un lavoro chiuso a inizio agosto che mi ha aiutato per l'ennesima volta a capire come appunto tutto alla fine ruoti sempre attorno a logiche e dinamiche di potere e come il mio libro precedente, Lobbing, abbia colto nel segno rispetto a un argomento, a un tema assolutamente centrale che ormai caratterizza il nostro tempo e che tra l'altro lo caratterizza sempre di più, cioè è un fenomeno assolutamente in crescita. In questo caso, questo libro mette in luce quelle che potrebbero essere probabilmente le reali motivazioni di tutto quello che è stato la questione dell'autunno del 2001, a partire dalla fine estate con quel tragico attentato, quei molteplici attentati alle torri gemelle dell'11 settembre, poi la questione dell'invasione dell'Afghanistan, tutto diciamo, secondo me, come si può dire, chiarito o comunque reinterpretato in maniera quantomeno interessante sulla base di una riunione segreta che si tiene a Berlino a metà di luglio del 2001. Poi ne parleremo di questa particolare riunione segreta e noi siamo voluti tornare a parlare dell'11 settembre 2001 perché il ventennale ovviamente terminerà in questo 2021, quindi è giusto parlarne, è giusto ricordare quel crimine contro l'umanità, come lo definimmo nella puntata precedente, anche in giorni che non sono relativamente vicini all'anniversario e ci siamo tornati, ci stiamo tornando, come già avrete avuto modo di capire, anche in una chiave particolarmente diversa e interessante perché col professor Pietro Ratto tra poco sicuramente capirete altri aspetti che magari non vi sono stati mai raccontati. Intanto per rivivere quella drammatica giornata dell'11 settembre 2001 che per tanti ha cambiato il mondo, poi parleremo anche di questo, ecco il servizio firmato Aurora Vena. 20 anni, una vita fa. Eppure il ricordo di quel giorno, di quelle ore drammatiche, di quelle immagini che mai avremmo pensato di vedere fuori dalla sala di un cinema sono ben impressi in ognuno di noi. È l'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti stanno vivendo il primo attacco sul loro territorio dai tempi di Pearl Harbor. Sono quasi le 9 di una mattina di fine estate. Un aereo di linea sorvola New York a bassissima quota, attirando la curiosità della grande mela. In pochi istanti, l'orrore. Il velivolo si schianta sulla torre nord delle Twin Tower, i grattacieli gemelli che svettano a oltre 400 metri nello skyline di Manhattan. Passano circa 20 minuti che un altro colpisce la torre sud. Nell'arco di un'ora e 42 minuti, entrambi gli edifici collassano a terra, avvolgendo la zona circostante in una nuvola di fumo. Ore 9.37. Un terzo aereo si abbatte sul Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa e simbolo del potere militare americano. Un quarto, il volo United Airlines 93 si schianta al suolo alle 10.03 in Pennsylvania, mancando l'obiettivo immaginato dai dirottatori grazie al sacrificio dei passeggeri che ostacolano il piano dei terroristi di raggiungere Washington. Quasi 3.000 vittime, di cui molte ancora non identificate e più di 6.000 feriti. Questo il tragico bilancio degli attacchi al World Trade Center, a cui negli anni si sono aggiunti e continuano a sommarsi nuovi decessi per malattie causate dall'intensa esposizione a polvere e fiumi tossici diffusi dopo l'esplosione. Fiumi di parole sono stati pronunciati, scritti, recitati su quel giorno, sul giorno che ha cambiato la nostra vita e la nostra storia, per raccontare, analizzare, provare a capire. Ma alla luce degli ultimi sviluppi in Afghanistan, i racconti, le analisi, le osservazioni, quest'anno hanno avuto un sapore diverso, un sapore di fallimento. Una domanda in tutti è sorta spontanea. A cosa sono serviti questi 20 anni? Di certo si auspicava in un finale migliore. Ripartirei dall'interrogativo sollevato dalla collega Aurora Vena e questo servizio, montaggio di Claudia Di Fonzo. Professor Ratto, a cosa sono serviti questi 20 anni, dall'11 settembre 2001? E poi è giusto dire che quella è una data spartiacque che ha cambiato il mondo, un po' come fu il crollo del muro di Berlino. Professore, non la sentiamo. Aspetti che forse c'è la modalità silenzioso. Vediamo adesso se riusciamo a risolvere tutto in presa diretta con il professor Pietro Ratto, vi ricordo, autore del libro 11.9, da Berlino a Kabul, la lunga scia di sangue dell'11 settembre. Sì, sì, chiedo scusa, era colpa mia in effetti. Sono cose che succedono. Qualcuno amava dire il bello della diretta, ricorderà benissimo. Quindi questo è il bello della diretta. Allora, può proseguire? Sì, dicevo, rispetto alla seconda domanda, senza dubbio quello è stato uno spartiacque e credo che su questo aspetto la propaganda abbia giocato moltissimo e quindi possiamo anche ricollegarci alla prima delle sue domande, cioè a cosa sono serviti questi 20 anni. In realtà questi 20 anni, a mio parere, si sono concretizzati in un progressivo consolidamento di una forma di forte diffidenza, se non addirittura di accredine, di terrore, di paura nei confronti di una cultura diversa dalla nostra e in qualche modo, diciamo, descritta sempre più con toni aggressivi come una cultura pericolosa, capace di poter mettere in serio pericolo e a serio rischio la nostra cultura. E quindi in questo senso lo spartiacque sta proprio in questo, cioè dall'11 settembre in avanti, già dalla mattina dopo, abbiamo cominciato a guardare una certa cultura come quella araba e in particolar modo appunto la religione islamica come un coacervo di pericolosi individui che attentavano alla nostra sicurezza. Credo anche che questo tipo di stato d'animo adeguatamente diffuso in tutta la popolazione occidentale abbia in qualche maniera costituito un buon motivo per poi su questa base, diciamo, costruire sistemi di sicurezza sempre più invadenti e invasivi nei confronti della nostra vita, controlli, videosorveglianza, videocamere, ovunque, appunto sempre con quello che era la motivazione della protezione della nostra sicurezza e dell'impedimento, insomma della prevenzione nei confronti di eventuali ulteriori atti terroristici. 11 settembre, vent'anni dopo, una lunga scia di sangue, abbiamo titolato, mutuando in parte anche il titolo del libro del professor Pietro Ratto, senza dimenticare, e qui c'è la lunga scia di sangue, no professor Ratto, i tanti attacchi che si sono poi susseguiti nel tempo dopo il 2001. Ricordo gli attacchi in Spagna, agli attacchi in Gran Bretagna, agli attacchi in Francia, tra vere e proprie cellule terroristiche e cani sciolti. Quindi una lunga scia di sangue che in qualche modo pare essersi fermata in concomitanza con la pandemia o è solo un caso? Sembra che praticamente tutto si sia fermato con la pandemia. Resta il fatto che io in questa scia di sangue avrei idealmente inserito assolutamente i morti derivanti da questa invasione in Afghanistan, che forse pochi sanno che ha prodotto l'equivalente di un 11 settembre ogni anno per questi 20 anni. Questo dovrebbe dare un'idea del fiume infinito di sangue che questi attentati hanno prodotto. Infatti naturalmente c'è anche il discorso Afghanistan nella lunga scia di sangue. Io ho riassunto alcuni degli attacchi ancora che sono stati perpetrati nei confronti dell'Occidente da parte appunto di quello che prima era il Qaeda, poi l'ISIS, lo Stato Islamico e tutto quello che è trascorso in questi 20 anni. Però torniamo a uno degli argomenti centrali del libro del professor Ratto, perché prima lei ci parlava di una riunione segreta, una riunione segreta che si tenne a Berlino tra alti rappresentanti, Stati Uniti, Pakistan, Russia. Cosa accadde in quella riunione? Quando si tenne? Allora questa riunione si tiene a metà luglio, anche se il giorno preciso non lo sapremo mai, anche se qualcuno in giro così in rete ha provato a dare qualche data, ma la data precisa non la si conosce, si verifica in un hotel di Berlino seguendo quella che è la modalità track to, la modalità in traccia due, cioè quelle forme di trattativa che spesso da un po' di decenni a questa parte gli Stati che si trovano in conflitto, anche solo comunque in difficoltà di rapporto, tentano di attuare e di attivare per negoziare in una forma protetta e privata ufficialmente affidando, cioè non c'è nulla di ufficiale, ma comunque affidando questo incarico a quelli che in teoria sono privati, ma che spesso hanno avuto grandi incarichi, grandi competenze a livello di relazioni internazionali, spesso ex ambasciatori o ex ministri degli esteri o sottosegretari eccetera, che diciamo sulla carta si trovano a titolo privato, ma in realtà contrattano per cercare di risolvere una certa questione. Peraltro voglio ricordare che l'Afghanistan è da tempo al centro di questioni internazionali, se vogliamo a partire dal 1979 quando ci fu l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica e poi appunto questa guerra che ha seguito gli attacchi dell'11 settembre, nel novembre dello stesso anno del 2001, che fu l'invasione dell'Afghanistan. Quanto è importante quella regione, quel paese a livello di risorse? È assolutamente importante, ma è importante da sempre. Ricordiamo che sotto, insomma, all'epoca di Alessandro Magno, l'Afghanistan, o comunque quello che era quel territorio, era già particolarmente conteso e ambito, perché è un territorio che costituiva l'accesso al mare per l'Oriente e oltre che essere un importantissimo crocevia per i commerci dall'Oriente all'Occidente e viceversa. E quel territorio è rimasto sempre di importanza strategica veramente decisiva fino alla nostra epoca e soprattutto da dopo la seconda rivoluzione industriale quando si è scoperta la grande ricchezza che il suo sottosuolo celava dal punto di vista delle energie fossili e quindi di gas e di petrolio. Da lì è diventato un imperativo occuparlo, soprattutto in una fase come quella della guerra fredda in cui questo territorio è stato subito preso di mira sia dall'Unione Sovietica che dagli Stati Uniti. Ricordiamo che nel 1978 avviene quel famoso colpo di Stato in Afghanistan che fa salire al potere il partito comunista afgano, chiaramente coordinato dall'internazionale comunista di Mosca e quindi gli americani saltano su in maniera veramente risentita perché si tratta di aver quasi sicuramente perduto un territorio. Avviene qui una cosa che mi riservo, se le interessa, di approfondire dopo che parliamo delle cose che sono in questo libro perché accennerei a qualcosa che non è in questo libro ma che è di un'importanza pazzesca. Ciò di cui si parla in questo libro è proprio questo, è il fatto che la famosa dottrina Clinton prevedesse poi che questo territorio, una volta caduta l'Unione Sovietica e quindi in qualche maniera, come si può dire, accantonato un certo problema, questo territorio venisse il più rapidamente possibile ricondotto a un controllo occidentale soprattutto appunto per questi giacimenti e quindi l'obiettivo, la finalità doveva essere quella di sottrarre al controllo russo ormai quei giacimenti costruendo, progettando e costruendo enormi condotti, enormi oleodotti che portassero da quelle zone fino all'Occidente, fino all'Europa il greggio, riuscendo in questa maniera a sottrarsi a monopoli come quello di Gazprom. E allora ne approfittiamo per vedere anche un bellissimo book trailer a proposito del libro 11.9 da Berlino a Kabul, la lunga scia di sangue dell'11 settembre e poi torniamo, approfondiamo altri aspetti e sentiremo anche quella parte che così ci ha tenuto col fiato sospeso, ci tiene col fiato sospeso per saperne di più, così come anticipato dal professor Ratto. Il book trailer. A Kabul Vogliono un tappeto d'oro o uno di bombe? Attaccheremo prima delle grandi nevicate. Questo dunque il book trailer di 11.9 da Berlino a Kabul, la lunga scia di sangue dell'11 settembre. Tra le recensioni che ho trovato, leggo questo è un libro duro che non guarda in faccia a nessuno, che mette in rilievo brutte storie di lobbying, compromessi, conflitti di interessi, accordi segreti, retroscena insabbiati e suicidi quanto meno sospetti e che aggiunge un'altra importante tessera al difficile studio che da anni Pietro Ratto conduce sulle dinamiche rimosse o tralasciate di una storia troppo spesso raccontata in base agli obiettivi di chi quotidianamente gestisce e amministra il potere. Ecco, ora qui possiamo parlare di quella rivelazione che vuole farti. Beh sì, senz'altro potremmo, se è d'accordo, anticipare che cosa viene detto in questa famosa riunione. Certo, quella del luglio 2001 a Berlino. Esatto, senz'altro. In questa riunione a cui partecipano tre esponenti, tre rappresentanti degli Stati Uniti, tre ex diplomatici abbastanza pieni di esperienza, un ex ministro degli esteri del Pakistan, molto navigato, molto esperto, più tutta una serie di altre delegazioni, compresa una delegazione russa, servizi segreti, in particolare quelli pakistani dell'ISI, che hanno il ruolo poi di riferire ai talebani in quel momento assenti per la rottura dei rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Afghanistan, si parla essenzialmente di una proposta. Gli americani chiedono, impongono in realtà come loro condizione ai talebani, anche se non sono presenti, ma verranno informati, di ricostituire un governo moderato, filo statunitense, quindi nelle mani degli Stati Uniti, in modo così da assecondare un progetto che è di fatto un progetto che parte quantomeno dall'inizio degli anni 90. Si tratta di un gigantesco oleodotto e gasdotto che deve partire dal Turkmenistan, attraversare l'Afghanistan, arrivare in Pakistan con anche l'opzione di un prolungamento in India con ulteriore aggravio di spese e bisogna che questo progetto che di fatto è stato elaborato e verrà messo in atto da una cordata di compagnie petroliferi molto importanti, tra le quali la principale, la capocordata è UNOCAL, una multinazionale californiana del petrolio. Ecco, la condizione è che i talebani appunto si riconducano in qualche maniera a più miti consigli e dopodiché lasciano passare questo oleodotto di importanza centrale per i progetti dei grandi petrolieri occidentali. e viene anche pronunciata quella famosa frase che poi appunto il libro e anche il book trailer riporta e cioè la frase per cui viene gli americani dicono fate sapere ai talebani, insomma fate scegliere ai talebani se preferiscono un tappeto d'oro oppure un tappeto di bombe. La riunione termina con un annuncio da far accapponare la pelle. Gli americani dicono se gli talebani non faranno quello che vogliamo, ripeto il progetto era già lì da tanto tempo e per lungo tempo i talebani e gli americani erano andati d'amore d'accordo anche in questo senso, anche per questo progetto, ecco se non farete quello che vogliamo entro le grandi nevicate vi invaderemo. Io ricordo che le grandi nevicate in Afghanistan cominciano a metà ottobre ebbene l'11 settembre dopo il diniego dei talebani nei confronti della proposta americana l'11 settembre succede quello che abbiamo detto e che sa tutto il mondo e dopodiché il 9 di ottobre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan. Quindi una cosa sembra evidente come poi sottolineano anche in tante altre recensioni di questo libro Il terrorismo islamico non fu certo l'unico motivo degli attentati alle torri gemelle e dell'invasione americana dell'Afghanistan probabilmente non fu nemmeno quello principale ci sta dicendo cose che praticamente io almeno non avevo mai sentito e credo anche tanti telespettatori non solo ma molti osservatori alcuni in particolare fecero poi notare nel corso della guerra in Afghanistan come gli Stati Uniti si fossero affrettati a collocare le loro basi militari man mano che avanzavano nel territorio afgano esattamente sulla traiettoria che avrebbe dovuto essere osservata per la realizzazione dell'oliodotto e del gasdotto quindi è veramente inquietante quanto poi all'anticipazione che le facevo e che non è contenuta nel libro ma in un video che sta per uscire sulla mia piattaforma che si chiama Bosco C2 Pro è una piattaforma in abbonamento ecco c'è un pezzetto di una conferenza che tengo a un certo punto in cui do tutti gli estremi abbastanza inquietanti rispetto a chi abbia inventato il cosiddetto jihadismo perché quello che in Occidente si continua a non dire ma io mi riferisco a un articolo sul Washington Post uscito nel febbraio del 2004 e poi subito censurato ma molto circostanziato molto ben spiegato insomma un articolo in cui si parla di come all'indomani della salita al potere del partito comunista afgano appunto in quel territorio partito che ha cominciato subito a diffondere l'ateismo tipico dell'Unione Sovietica e del comunismo gli americani abbiano escogitato un sistema di propaganda soprattutto a livello di istruzione scolastica e mi riferisco alle scuole elementari proprio dalla prima elementare facendo elaborare poi stampare una quindicina di milioni c'è chi parla di 18 milioni di libri di testo destinati all'elementare e da lì in su a tutti i cicli di studio dei bambini e dei ragazzi in Afghanistan libri elaborati dall'Università del Nebraska di Omaha e contenenti centinaia di riferimenti bellici si insegna ai bambini a contare contando i pugnali i mitra e le pistole si mettono in matematica si inseriscono problemi come se ci sono dieci mujaidin no chiedo scusa se ci sono dieci atei comunisti e i mujaidin ne uccidono cinque quanti ne restano ecco questi sono i problemi che vengono dati ai bambini più nei libri di testo tutta una serie di di versetti presi dal Corano accuratamente scelti tra quelli che si prestano interpretazioni più violenti insomma dal giugno del 1979 dal giugno del 1978 viene propagandato questo modo di di fondere la cultura e di assorbire la cultura quei bambini che poi saranno esattamente i talebani che dalla metà degli anni 90 prenderanno in mano il potere dunque questo dà anche l'idea dell'importanza enorme che abbia la scuola quando viene gestita in una certa maniera parliamo di una di una intera generazione allevata a suon di insegnamenti aggressivi e diciamo che spingono e hanno spinto per tutti quegli anni tra il 78 e quantomeno la metà degli anni 90 hanno spinto in direzione di una un'attività terroristica antisovietica in nome attenzione proprio di quella religione che questi testi difendevano contro l'ateismo comunista che poi in seconda battuta dall'11 settembre in avanti invece è diventata per noi occidentali la religione di cui diffidare perché è una religione aggressiva che pone la jihad e la guerra santa come suo obiettivo centrale e quindi è fattore di grave rischio e pericolo per la nostra cultura io ringrazio il professor Pietro Ratto avrei anche tante altre domande da fare al nostro ospite storico e filosofo ma non abbiamo il tempo per approfondire altri aspetti e allora ai telespettatori rimando ovviamente al libro che possiamo rivedere 11.9 da Berlino a Kabul la lunga scia di sangue dell'11 settembre così come abbiamo titolato anche noi questa lunga scia di sangue che è cominciata ma in realtà è cominciata anche prima nell'11 settembre 2001 è andata avanti per 20 anni e noi abbiamo anche parlato di quello che è avvenuto dal 78 in avanti grazie ancora al professor Pietro Ratto ai prossimi appuntamenti qui a Crimine e Criminologia e al suo prossimo libro perché lei diciamo che ne produce veramente tanti ogni anno d'accordo sì grazie a tutti e quindi buon lavoro arrivederci grazie grazie ancora al professor Pietro Ratto chiudiamo però ci tengo a riproporre un contributo che è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori di Cusano Italia TV ma anche da chi ha visto la precedente puntata sull'11 settembre sul canale YouTube della nostra televisione ovvero la ricostruzione quello che abbiamo sceneggiato che sono gli ultimi drammatici attimi del volo American Airlines 11 cioè l'America all'aereo che si schiantò contro la torre nord del World Trade Center alle 8.46 il primo impatto la concitata conversazione tra Michael Woodward della torre di controllo di Boston e le hostess Betty Ong e Amy Sweeney ricordo Michael Woodward interpretato da Daniel Moretti Betty Ong da Aurora Vena Amy Sweeney da Francesca Pierri il tutto per l'ottimo montaggio di Sofia Puppo ce la fate ad entrare nella cabina? credo che qualcuno stia provando ad entrare nella cabina di pilotaggio il fatto è che sembra sbarrata la strada per raggiungere la cabina non riusciamo neanche ad avanzare adesso qual è la situazione? in classe turistica tutti i passeggeri sono calmi non hanno capito che l'aereo è in mano ai dirottatori Amy che succede? Michael stiamo scendendo molto rapidamente ora stiamo facendo un'altra manovra brusca verso l'interno tutto su un lato l'aereo sta facendo manovre molto pericolose si tratta di virate improvvise l'aereo scende in picchiata come se fosse senza controllo Betty hai altre informazioni sui passeggeri nella cabina? si i passeggeri dei posti 2A e 2B ora sono all'interno della cabina di pilotaggio erano seduti su 2A e 2B? si e adesso sono nella cabina con i piloti? si sono lì Amy guarda fuori dal finestrino e dimmi che sta succedendo cosa vedi? Michael l'aereo sta scendendo in picchiata vedo l'acqua vedo i palazzi siamo bassi troppe bassi vedo molti palazzi intorno a noi oh mio dio anche un doveroso omaggio alle quasi 3.000 vittime e soprattutto poi ai tanti soccorritori che persero la vita in quel drammatico 11 settembre 2001 grazie ancora Daniel Moretti che ha interpretato Michael Woodward Aurora Vena che ha interpretato la hostess Betty Ong Amy Swine è invece interpretata da Francesca Pierri grazie a Sofia Puppo per il montaggio noi ridiamo la linea a Emanuele Forcina per la pubblicità e poi torniamo col terzo e ultimo capitolo di oggi di Crimine e Criminologia la galleria degli orrori altro appuntamento da non perdere perché parleremo di una donna serial killer Lavinia Fisher la serial killer in abito da sposa a tra poco ciao a ciao 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 ciao